Ha il problema di non essere trovato su local.ch e sugli altri motori di ricerca? Appare in fondo nella lista dei risultati o addirittura nelle pagine successive? La conoscono solo nelle vicinanze? Anche se viene trovato, non viene comunque scelto. Sa quali sono i tre fattori decisivi per essere trovati online? Si tratta del posizionamento nella lista dei risultati, della diffusione raggiunta dal suo profilo aziendale e del contenuto che pubblica online, come ad esempio fotografie e informazioni sulla sua azienda. Tim ha risolto tutti questi problemi con il nuovo prodotto Local Business Standard, che prende in considerazione questi fattori. Vuole sapere come? Grazie a tutti.